benvenuti a tutti in questo nuovo video oggi vi farò vedere come avere netflix altri film e altre serie tv gratuitamente sul proprio device android per prima cosa andiamo sul play store e scarichiamo YZ trovate il link in descrizione ok una volta installato andiamo ad aprirlo ok continuiamo senza accelerare con google qui abbiamo la nostra home ok andiamo sull'altro sito che vi linko in descrizione andiamo a copiare tutti i canali che troviamo qui se abbiamo più possibilità di trovare quello che cerchiamo andiamo sotto una volta fatto questo lo copiamo riapriamo il nostro always andiamo in i miei canali aggiungi canale e copriamo tutto quello che abbiamo trovato e facciamo inserisci ok adesso abbiamo vari canali possiamo decidere se scegliere il nostro canale in base a quello che ci piace di più oppure andare a cercare il film che ci interessa tramite ricerca qui ad esempio la casa di carta qua ci chiederà di vedere uno spot perché cercherà in tutti i canali una volta finito lo spot vedete abbiamo qui tutte le ricerche che ha fatto possiamo anche cercarlo comunque di canale in canale o vedere le varie home vedete questa è la casa di carta per l'episodio 1 possiamo scegliere l'host con cui vedere il video in base al canale ci sono vari host ecco qua che apre il nostro video vedete la qualità è quella di netflix metterlo per dire nei preferiti e lo troveremo nella nostra schermata principale facendo i miei preferiti quindi non dovremo più cercarlo eccolo qua invece per vedere il canale vedete andiamo così e come tutti i film possiamo cercarli possiamo dividere in serie tv in questo caso non questo canale fa solo film tutto se vi è stato utile questo video lasciate un like iscrivetevi al prossimo video